Guida esclusiva del maestro gioielliere, migliora la tua ricerca sull'anello di fidanzamento con questi approfondimenti da parte degli esperti. Sei sul punto di intraprendere un'avventura affascinante alla ricerca dell'anello di fidanzamento perfetto? Come gioielliere esperto di lunga data, sono qui per guidarti attraverso una strada ornata di diamanti scintillanti e opzioni infinite. Nel mare di scelte, non temere, ho selezionato per te 5 preziosi consigli che renderanno la tua ricerca un viaggio senza stress verso la perfezione. Quando si tratta di acquistare l'anello dei tuoi sogni, la scelta tra l'acquisto online o una visita a una gioielleria locale può sembrare schiacciante. Online, potrai educarti sui pregi e i difetti, godendo di un'esperienza clicca-clicca senza sforzo, con la libertà di restituire entro 30 giorni. Tuttavia, non potrai osservare diamanti a confronto, né avrai il dialogo personale di un esperto. Decidi se vuoi un'esperienza di shopping digitale moderna o la calda interazione di persona. Immagina una splendida pietra preziosa circondata da una cornice che la valorizza. L'acquisto separato della pietra e della cornice può sembrare allettante, ma si è cauto, il processo di montaggio è complesso e rischioso. L'equilibrio tra bellezza e resistenza richiede competenza artigianale e attenzione. Scegli la saggezza dell'integrità totale, scegli una pietra e una cornice in perfetta armonia per una creazione senza paragoni. Scegliere la giusta caratura per la pietra centrale è cruciale. Evita l'effetto FOMO, Fear of Missing Out, e la sorpresa di una pietra troppo piccola dopo la personalizzazione della cornice. Osserva attentamente le dimensioni delle gemme e cerca la mia guida pratica su YouTube. Se vuoi sperimentare senza rimpianti, ricorri a opzioni convenienti come Amazon per testare diverse dimensioni e stili prima di fare la scelta definitiva. L'anello di fidanzamento è un tesoro destinato a durare per sempre. Non commettere l'errore di affrettare l'acquisto. Prenditi il tempo per esplorare, scoprire forme e tagli, e pianificare con il tuo partner. La personalizzazione richiede attenzione ai dettagli e creazione artigianale, quindi preparati a investire tra 6 e 12 settimane per ottenere un anello straordinario. La pazienza ripaga con un simbolo d'amore senza pari. Puntare a una caratura leggermente inferiore può sembrare una tattica per rispondere. Ma rifletti bene. Questa strategia riduce notevolmente le opzioni disponibili e può addirittura influenzare i prezzi al rialzo. Per una varietà di opzioni e prezzi, considera anche diamanti leggermente sopra il confine, scoprendo nuove possibilità e potenziali affari sorprendenti. Sei ora armato di conoscenza per guidarti nella tua ricerca dell'anello di fidanzamento perfetto. Non lasciare nulla al caso, poiché ogni dettaglio conta in questo viaggio memorabile. Iscriviti al mio canale YouTube, segui le mie guide sui social media e non esitare a chiedere consigli. Ricorda, l'anello che scegli è una dichiarazione d'amore incisa nella storia, quindi preparati a fare una scelta che brillerà per sempre.